La speranza è una virtù umile, quella virtù che scorre sotto l'acqua della vita, ma che ci sostiene per non annegare nelle tante difficoltà, per non perdere quel desiderio di trovare Dio. È uno dei passaggi dell'Omelia pronunciata da Papa Francesco durante la Messa a Santa Marta. Con l'approssimarsi della Pasqua, il Pontefice ha rimarcato che essere cristiani vuol dire credere contro ogni speranza, perché il Dio che ha chiamato Abramo e l'ha fatto uscire dalla sua terra senza sapere dove dovesse andare, è lo stesso Dio che va in croce per compiere la promessa che ha fatto. È lo stesso Dio che nella pienezza dei tempi fa che quella promessa divenga realtà per tutti noi. E quello che unisce quel primo momento a quest'ultimo momento è il filo della speranza. È quello che unisce la mia vita cristiana, la nostra vita cristiana, di un momento all'altro per andare sempre avanti. Peccatori, ma avanti. È la speranza. È quello che ci dà pace nei brutti momenti, nei momenti più bui della vita, è la speranza. La speranza non delude, ma è sempre così, è lì, silenziosa, umile, ma forte.